Sì, è vero, è così, sono una persona semplice. Il termine pisello mi fa ridere a crepapelle, a dir poco scompisciare. Palle e tette altrettanto, quando leggo i bambini giocano con la palla soghigno. Cacca e piscio, sono come criptonite per me. Odio le persone che non ridono quando esclamo culo senza una ragione apparente. In conclusione, vostro onore non se la prenda se ho riso quando ha detto che è morta sua madre.